Ooooo so bene ma quindi arriva turco pure? eeeh Eventualmente sì, piuttosto devo dire a Robbo che siamo qui così magari ce la fa una visitina. Tutti i C1 immagino lo tocchi giusto per cosa? Adesso sì, vedo che cosa c'è da fare se no... Dal mood mi dà l'idea che tu non abbia esattamente un po' sbatti di fare la beta di M. Assolutamente no, sei trentottesimo nel Summit, mi hanno basato giù due posizioni, Platino, solo pacchetto CC e hai ottenuto 20.000 credit CC, quindi io ho finito con TC1, visto che la Subaru nemmeno tramite il Summit la puoi prendere. Quella è una grossa... Fantastico. No, il tuo prossimo obiettivo è comprare tutte le livree che costano più delle auto. Le livree che costano più delle auto cosa? No, vabbè, sono costosette alcune livree, invece quelle di Ubisoft, perché meness. Vanno per ogni auto tipo? No, la compri una volta e la puoi applicare a tutte le auto compatibili. Un esempio così su due meme ti ce l'hai? Che almeno vedo. La livree dei Rabbits la compri una volta e ce l'hai ovunque. No, no, da un'auto, da un'auto. Un'auto che puoi applicarla. Cazzo ne so, basta ricordare. Ne butto sulla Focus, I guess. Far l'officina me lo permetterà di farlo? Aspetto... aspetto. Buoh, io qua vedo colore, adesivi, interni, forse adesivi. Adesivi? Animali, bandiere, fiamme, racing. Cazzo. Vintage Ubisoft 1. Ah, come l'ho già guadagnata? L'Assassin's Creed, tipo. Ubisoft 2 ha solo una livree riguardante... Cazzo è? Boh, sembra l'angelo di... Borderlands. La Mao. Driver... Che augura Just Dance. Guarda, i Rabbids ce l'ho già, a quanto pare. Quindi l'ho guadagnato un bel po' senza accorgermi, non mi pare di capire. Ma forse sono queste solo quelle guadagnate, dovrei andare tipo... Altrove... A vedere tipo l'elaborazione, l'ufficio di elaborazioni, penso. Dov'è? Non vedo simboli del Summit. Ah no, ok, ecco. Ancora Bonneville. Ma che cazzo? Bonneville. Davide e Golia. Oppure il Qualifier è bloccato. Ah, perché devo fare il pass di acceso? Sì, ma se devo... Cioè... Sì, sì. Aspetto adesivi. Già, eccole qua. Minchia, 80.000? 70.000? Eh... La... Però aspe, perché me la sta facendo costare se io al QG ce le avevo disponibili? WTF? WTF? È la quella di Rayman, però. Al QG me le dava disponibili perché me le fa passare così. Sì. Boh. Oppure non... Non dovrebbe? Aspetta interrogativo. Forse è un glitch. Forse è un glitch. Io ricordo che una volta che lo compravi un adesivo era bloccato ovunque. Allora, so che per i colori funziona così. Finché non so quelli originali, specifici dell'auto, se sono colori quelli globali, sono per l'appunto globali e quindi li hai su tutte le auto. Quegli adesivi in teoria dovrebbe essere lo stesso identico discorso. Boh. Non lo so. Non lo so. Acquista un adesivo per un veicolo. C'è la sta sfida da fare? Alla mo'. I guess. Vabbè. A sto punto posso considerarlo terminato sto cosa. E bye bye. Un po' cosa? Un po' cosa mi metto a fare la beta se ci state voglia dove parlare delle vostre cose. Io non so ancora perché sei guadagnato. Non è una domanda purtroppo fattibile questa sera. Troppo, 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 ma... Meccaro. Che salta. La senti la vita che tipo... Codifica in sovraccarico. Meccaro. Esatto. Sento... Sento effettivamente una vita che mi sta travolgendo come una valanga di neve sciolta. Una vite. Acqua vita. Un... Un... Una valanga di neve sciolta, quindi... Acqua. Un... Un... Un tsunami. Esatto. Che vi andava a montagna? Come quel mazzolino di fiori. Come la donzelletta. Un... 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 Se devi, bisogna farlo come si deve. Esatto. Porca mia! Esattamente. Esattamente. Ciao... Tutubo. 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 Ah, giusto è vero. Chiedo... No, tanto... Tanto YouTube si righiera con la... N-word, credo. No, perché si è aperto... Non voglio guardarmi lo stream di ieri. Maledetto. Esattamente. Mi ha messo lo stream di ieri, sta cosa. Sapore Twitch. Sapore Twitch. Chiedo scudo. Adesso. Perché di qua mi sono diventati... Di quali sono i flans? Oh, è morto la... la tua... la tua... il tuo volume. Crash. Dottoranna. Rispararmi Ok Questo non è stato intenzionale Giuro Giustamente È perito il fatto di essere sentito un po' dalla distanza Sì sì In lontananza Vabbè Se In rimanza Ah non mi fa mandare l'invito al momento Quindi F Serve che sei completamente No ok ora si Cioè mezzo secondo prima No E ora ho cambiato idea D'accordo Dai va là Indeed Quindi Mettiamo Vicino attesa di risposta Vabbè se scade No ok dice che c'è Per fortuna il latte è ancora buono Ma sarà di Gran Turismo Allora 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 Non ho fatto nada Gran Turismo Oh eccolo qua Quindi Dicca la cassa Libera Libera scelta Vediamo un po' Io sto qua A Cos'è qua Miami Penso Sì Che coperta La scritta Quindi c'è un asfalto a 12 Stando alla mia mappa Nice Allora Miami Asfalto numero 12 Miami Vice Che diventa nice Miami Vice Ah Com'è questo? 46 metri? Subway Surfer C'è uno che si chiama Mamma mia Ah ok Perfetto Ci siamo Chi procede? Vado Vado Let's go Let's Let's L'altro giorno Twitch mi consigliava Un canale Che si chiama Lek Anfino Non l'ho mandato Lo screen Lek Peccato Interrompere I pattugliamenti Però non l'ha fatta partire Aspetta ma ce l'hai su PC? Vuol dire che c'è il multiplayer ancora su PC? C'è pure su PS3 ancora Il multiplayer Sì ma mi aspetto che non sopravviva a lungo Perché si tratta di PS3 per l'appunto Quello lì Perché mi sta laggando il gioco? What? Lo solo perché questi coglioni Sono delle immense test di cazzo Oh ma quello Sono coglioni o sono test di cazzo? It's a sinistra Uuuu Come fa ad tridlarmi l'arresto se Se sto girando Ok Ti spiego Rob Hanno fatto la trinologia di Mastep Una bella remasta Vabbè se mi hanno detto Però Non ci sarà il multiplayer di Mastep 3 Perché? Tagliano completamente il multiplayer del 3 Perché dice Ah per come è fatto il gioco La tecnologia Per come abbiamo lavorato pure su Mastep H1 All'abbellimento L'artemaster Per cazzo pari Crediamo che questa esperienza Sia meglio renderla esclusivamente single play O altre boiate del genere Ma Memes Memes Sai che stiamo parlando pur sempre di MMA Cia Oh cavolo devo girare Uh Uh Svello di bullshit Io penso sempre Io non può cadere più in basso di così Con le loro boiate E puntualmente lo fanno Lo fanno Cadono più in basso di così Avevi aspettative diverse per caso? No perché Non è che Uh La frenata Anche se ora onestamente sono curioso riguardo Mastep H3 IS3 Molto bello Voglio vedere se c'è ancora o meno Wow 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 Sono partiti Sono partiti Questo Ah ovviamente prima devi mettere tutti gli DLC possibile immaginabili Oh chiedo scusa No it's ok Vabbè ho preso un alberello ma it's ok Wow quel portavalori è Non porta più Vabbè ho preso di più valori invocavano Come quello che hanno saltato vicino a foggia Eh Più o meno Ecco però questo Eh con la tecnica della riete Ci vuole poco Basta la straccia centralina Eh La spirapolvera a riete Eh esatto Mi pare fosse un ferro da stiro anche boh Può essere Era qualcosa A riete Ime tech c'è pure Wow Mi sono Ho messo dietro la telecamera un secondo e mi spono un Un'auto Un'auto Understandable Mi spona un No 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 Dio Può fuggire a un elicottero Frase mai detta da nessuno Già mai sentita Mai sentita soprattutto Roger Dove sta mutare cesso da navigare Porca puttana Oh Oh vedi una cassa che è iniziata sull'asfalto E finita sull'asfalto Rare in questi gio Mamma mia che parcheggio perfetto Cento per cento di ventiquattromila books Perfetto Ma è alla cassa successiva Vediamo dove ci porta sto teletrasporto Se è un oro la faccio Altrimenti la cerco io manualmente La facciamo È un argento È un argento Eh no Eh no Non ha capito che non può sfuggire No vabbè Un elicottero Ora asfalto 11 Oppure ci dedichiamo alle platine Mi sembrano belle in questa stagione Fuoristrada Asfalto Fuoristrada Fuoristrada Tutto fuoristab Fuoristrada O as A sto punto L'ultima asfalto Hai di capire che ci stai ancora su PS3 E come? Cosa intendi? Pare Che si può giocare? Mi pare di capire di sì Sai cosa? L'ho pulita la PS3 Ho pulito sta roba Penso che domani Più l'attacco e controllo Allora Platino Asfalto 30 Non temi due Viaggio rapido Eccolo qua Che poi dopo facciamo quelle fuoristrata Gio Gio rapido Gio Gio Vado io a studiare? Eh prego prego Sì Certo che non mi inserì Ah no ok No Quello Quello non si fa Maragabibo Bello Sto posto di blocco Oh mannaccio Wow bel lagghino Mi è clippata dentro una volante Madonna che sbinnata Let's go Uh Shut the fuck Actory potrei mettere ad archiviare gli episodi di Eluva Boss Se almeno c'ho C'è l'ho Metti che youtube se la prende col canale di 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 Medrano e glielo tira giù Cosa che può capitare E' certo che capita L'unica cosa che ti devi chiedere Quando Quello non lo sa nessuno Penso Quello è difficile Anche perché youtube va un po' come L'altro L'altro Gender Ovvero Aggiornate Wow 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 Il proxy Da qua Se me lo fate vedere anche da qua Wow Perché ha fatto quella Mi si è messo su tutto Quella sbinnatina L'ha fatto E ci mancava solo il guardrail E vorrebbe finire infatti 303 giorni fa Il tizio ha detto PS3 Steel Kicking Allora 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 Nel senso che cazzo i giocatori Esatto Burnout Paradise Su Old Gen E' durato un anno Dopo la release Del coso Oh ho sbagliato strada Oh Io Ah no ok Stavo continuando Eh che me l'hanno fatto sbinnare Eh Vedete che è uno di Mattia Siete che sbinnano Beh dice di conseguenza Vuol dire che nel 2022 I server di meme effect Saranno Delettati per Per la Old Gen Qualcosa mi dice Voglio dire Questo comunque E' un precede Ma che Ti ha tirato Te l'hanno combinato Ben sto takedown Mamma mia Madonna Il decollo Ho visto Comunque Ti ha tirato Sul Sul guardaraglia Piantatela però Di essere Così simpatici Olè Posso tornare Sul percorso Adesso Grazie Oh sono spariti A random Ok Ho pure capito Perché Uh Mi ha fatto riprendere All'istante Con la volante Ok Comunque Si diceva Oppure Ok Pure Oh La scivolatina Big ripper Subito Per qua E dopo per là Ma puoi driftare Ma non si possono scrivere Ste notizie Il maiuscolo La sbinnatina O la ghigliottina E me sa che qua La parola Non la troviamo Eh Basta che troviamo La cassa Quella è già Qualcosa 6400 Cosa Cos'era successiva Di qua Cos'era successiva Di qui Di qui Bronzo Wow Che crisi Allora Mettiamo Fuoristrada Ehm Non ho sempre detto Che dopo la pandemia Non sarebbe Restati Inventi Eh già Metto La 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 Mi sa che la 370Z Ha più tenuta di strada Di tutte le altre auto Quindi Almeno Da rally ride Mi utilizzerò Quella Su Costa Est Fuoristrada Number Six Che non ho sbloccato Interessante Uff Si In effetti È un punto È un punto Chiuso Non ho tanto Finché Passo Strada Tudi giù Tut Tkung Tavi Chemischi Tundentù Il Sass Papapam Papappam Papapam 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 ... 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 gari sia che giro il suo lavoro che non piace se mi impara di capire la tendenza è quello voglio assoluto connessione esatto non gli piace solo tu insomma perchè? qui ti prende anche a 500 metri c'è gli inseguimenti di trigger a subito ah... non ce lo so per le pazienze sono ancora legato a questo successo incredibile e tu spiegati il silenzio è caldo il sonno di sas mannaggia le centraline però ah ho dal sas però non so i binari questi si so i binari corri metti sui binari let's go sui sbinari esatto tutte le volanti oh di qua mi dice di andare ok uff ci ho provato a coronare stanno tu tu sterzare uff uff grazie per la spinta yes vai polis vai polis vai polis vai polis vai polis vai polis e non mi impressiona se è un filino circondato beee se un sandwich lo chiamare ma... bel takedown ciccio peccato che ci ha perso lui ma ecco se vorresti farmi fare il giro di peppe tu facciamo che non lo faccio questo di qua uff sospettato ha sospettato ha sospettato ah uff ok ma posso scalcare yes perfetto oh mi sento arrivare alla distanza ah secondo lui dovrei tipo buttarmi fuori strada adesso a sinistra se tra poco dovrei fare tipo così ah tra poco uh 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 gli alberi uh 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 wow che dice di fare tutto sto giro? ah' perchè cè effettivamente un muretto se passassi di qua non mi dico che è all'interno del reticolo mamma mia che fortuna Vabbè Tempo di girare da fuori No Andatevi via Giustamente deve essere messa male Sta stradina Ma guarda lì Via Guarda che roba Cazzo C'è un buco per uscire Che è minuscolo No la centralina no però Ok Forse quell'albero mi ha salvato più del dovuto Però nice Naccardo Cosa è sto carano Fai tutto sto No perché Che è il salto del lì per salto Lì per salto Lì per salto Eh quello sempre Oh argento assurdo Buonasera Allora Allora metterei Metterei Quella in montagna Insomma Quella in montagna E non ho sbloccato la location Non parte Davvero? Com'è? Il botto è morto Il botto è morto Prova a cambiare lingua magari Il botto non è botto Non è il botto Ora me la farà aggiungere sta cassa Grazie Perfetto Ma dove è Ma dove è quel monaco È morto il bot Come è morto il bot Come si permette di morire senza la mia autorizzazione Io non lo sento Non so voi ma io non lo sento Non c'è niente I'm not playing anything Lo abbiamo stremato ieri Lo abbiamo rotto ieri Sbina le Che c'è Arbot Aspetta Prova a spostarlo in altri canali A vedere che succede No Non Oh no Forse disconnetti Non è che per caso sia stato mutato Generale No gli ho fatto un disconnetti E ora vediamo se torna Non Prova a spemi Ma il botto è online Boh O è sotto un utilizzo elevato da parte di elementi esterni Oppure non so Finchè tu capisci Aspetta Come vedete Cioè si è scritto qualcosa al loadbot Bello secondo lui sto usando la mastercard Bello Ma sei ancora dentro? Sì sì sono ancora dentro Solo che sto precipitando a valle perché sa Ok forse ora mi risca riprende Oh Un'auto che impenna oltre le drag race Mancava devo dire Capace tutti di impenna oltre le drag race Ora molto Eh Bello il ribaltamento Ma poi che punto strano che hanno trovato Per Per una cassa Ascolta Come che Si meglio Mi sa che non porta Mi sa che non porta a nulla sta strada qui Quindi meglio Circumnavigare L'artica Esatto Waka waka E E E Al massimo butto un hat a 7 E gli dici Oh che c'ha il tuo bot Si è stangato Di Di fare Monte fuji Monte fuji Una protesta dei bot Ciò C'è il primo percorso Più vicino E questo qua Wow Oddio Sass Il Sass Sai che forse questa era Opportuna con una moto Maybe Sass 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 Qua Mal di montagna Altro che mal di mare Esatto Wow Bello sto volo Oh finalmente ce l'ha fatta a scendere a 14 km che era bloccata a 15 da 3 ore Si è ripresa l'interfetch Si è ripresa l'interfetch E' no però l'ho fatto gli ho fatto espelli e Ci hanno disconnetti e rientra e tecnica doveva fixarlo quello Perchè sta girando di là su quella stradina Non so ma Ha deciso di farmi girare di qua Posso vedere io la mappa No mi sa che non si può far vedere la mappa Sono destinata a non sapere nemmeno io la meta C'è più che la meta a vedere i percorsi possibili Adesso capisco perchè i Corrieri sono sempre vitali In America pure Beh quello è in effetti pure capito Oh addio addio a tutti quanti qua Accetto che Pure al bot addio Oh questo è una Dice molto probabilmente sarà un problema del suo host Prova a disconnetterlo Spiegagli che l'ho già fatto perchè Merda Ah mi sono clipato quasi Dai 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 ripigliate C'è questo è puro stile Colin McRae Il tour di Finlandia La Svezia E la Svezia si Entra ma non parla Entra e non parla Oggi è molto timido E' shy Quite shy Questa è la cassa più off road che abbia mai visto finora in questo gioco per cui Non mi posso lamentare Non mi posso lamentare O non ho pushato Uuuu Mi hanno distrutto? Non mi hanno distrutto Ok Ok Stavo a quittà un ottimo da cosa Non vorrei che tipo ti infierisse il fatto che sto sul cellulare Sarebbe assai stupido Non credo No ho provato a fare i comandi io che sto al pc per cui Non sarà quello per farlo Oh no Vedi un po' Maddio Maddio Nooo Volevo fare un'altra cosa invece che questa Ma mi sa che era difficile perché spostarlo sto Sto furgone qua sto F-150 Ora funzioni Ah Ce l'ha fatta Quindi era la tua teoria? Aspetta provo a mettere una moto io Vediamo che succede Probabilmente andrà pure peggio No 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 Vai Aiii Le mao Le mao Sì però se prendo sti cosi Rimarrò schiacciato Ha detto Che cittina Come on and slam Come on and slam Che per finisco conto No Ma La valli dell'armi Ma sì Il pino La grappa di pino Ah Sto provando a fare i salti che non dovrei fare però l'unico modo per evitarli Occhio ad una strada Finalmente Eccolo 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 Occhio Montefugio 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 C'è sta cosa Una cosa che abbiamo scoperto ieri mentre mettevo i tweet delle Dele Dele V2 Ma che Ma questo si è stato aspettato qua Ma che cosa Capisco il rubber banding delle IA però mamma mia Una cosa Dio la visibilità No 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 Ma va con il bruttox Via Bru Moment Ah il guardrail di merda Vaffanculo Pareva strano che fosse così comodo E' vero Troppo easy poi diventa Ma come ti permetti Eh oramai No metti quello che No Cosa era di Carla Metti Carla E' bellissimo Metti Metti la roba Inseguimento Inseguimento Quello era quello che ci ha fatto schiattare ieri Eeeh Boh Copio tutti i messaggi di ieri Eheheheh Ma tu sei fuori di testa Con il tuo cellulare ci impiegherò Un'eternità A fare Eh allora è meglio che cominci Scarica mp maledetta Bye Una scarica di rasio Poche coffee Oh no A Oppure come parlano i finlandesi Perché in quel modo Parla Esatto Sì Sì Perché noi in Vilandia parliamo Cosa vuoi farmi fare il gioco? Tu sei pazzo Allora se ci sono montagne non mi assumo responsabilità E di fatto non posso scavare una montagna con sta moto Non si può scavare una montagna proprio dopo Mamma mia ma vabbè Devo perdere la cosa per sta cosa Devo fare il giro lungo purtroppo Capisco le buone intenzioni di farmi Sì probabilmente sì Più che meglio è l'unica alternativa penso Io apprezzi il fatto che vuole farmi tipo Tagliare strada però se non si può Non si può Non si Si La scarica madonna Se era un altro pixel più avanti Mi avrebbero buttato giù Giugge Un po' di giugge Oh yes 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 Push no Mamma mia Ha funzionato in guardia Ma però la cassa è della Però c'è un'altra montagna quindi non mi conviene Ha coz' Che啦 Ha 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 Ya Testa non è un po' di scendere corvette 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 Dabadi Dabada Dabada Dabadi Dada E avä be hoursvitab W están color of Vous phrases blue and stretch E se non te tresare. Tu e ave agi al friend in sé. So blu e blu arete più polare tatva caro un belico micorvette. It's in a not si de blu arete Woord si sa e invatiti Blu arete felin star Li re in si de me in blu et Da, da. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. No, mi hanno chiuso, mannaggia. Mi hanno chiuso nella barriera, ecco. Sta cassa è cusse. Che facciamo? Ma ce la gestiamo? Io invece di fare una radio-rede prendo una off-road. Una off-road. Salutiamo. Questa è la Wikipedia en siciliano. L'antiquiupedia uniqueghiepo scriviri e poi unciripalori novie cacca moravi 2643 articoli. Provate a scriviri en siciliano e en picca tempo vi, beni facili. Vi raccomandiamo ad adottare il nostro compenio stilistico. Grazie a vostri contributi. Quando desidera. Ieri ci siamo divertiti non poco con ste robe. Giupa con ste robe. Eh? Yes. Ci fa salire la montagna. Il cocuzzolo della montagna. Della montagna con la neve alta. Direi scenderemo la valle ma poi mi fa qualche animale in su. Si colpire una cosa vuol dire che scendi a bai. Già bai. Già bai. Già bai. Aspetta che... Anche il bot... Anche il bot... Anche il bot... Cosa è che il bot... Oof? Oof. 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 un attimo solo che devo sippare bio algaro bio sip si lo so che sono inattivo però un attimo gioco se non posso morire disidratato eh sip sei sicuro qua non c'era il telefono della sip non c'è bei tempi ma questa cosa mi fa sentire anziani vero maggio la telecamera cioè praticamente d'accordo per il giro dopo l'offrodo mi farebbe tornare indietro indietro addirittura beh e magari la ricalcola ah infatti i tassi 10 sono diventati 12 km biglemao a me ancora dice 12 vabbè che se mi fido di sto coso poi biglemao esatto biglemao no 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 si ho buttato ah ho provato a buttarli giù ma a quanto pare ha fatto backfire sta cosa la cassa più granica la cassa veramente più brutta dell'universo più brutta riprovo io col nissan ma vediamo che succede ma non ha ancora capito che non può sfuggire a un elicottero col tono elicottero eh si se metti il punto interrogativo lo dice come se fosse una domanda giustamente quindi come se dovesse interrogarlo il cribbio interaggiamo il voto taci ma ti permetti ma ti permetti ma ti permetti ma come ti permetti tu ma come ti permetti tu eh eh si è pure alterata anche eh eh esatto eh 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 mbe i fatti ma ma l'ho letto su pokemon è fatti straño dicò ah ho fordito ma pure clicco sennò en bè SMb RRRRRRRR fornite assistenza per l'arresto che c'entra Sir la c'entra in su fantastico ok fammi tornare sul percorso per favore ad ad il metti qualche lirix di qualcosa sei? adolf zio adolf lirix di qualcosa c'è qualcosa in mente l'altro giorno lirix di tassoni dai che sono curioso di vedere come lirix ma prima che faccio i senti faccio i senti a Rob Kurochan e il latte che avevamo nominato la qualità come che poi ne abbiamo usato ieri troppo 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 quante cose al mondo vuoi fare costruire inventare ma trova un minuto per me per voi e per gli amici tassoni guarda è sorprendentemente close alla voce reale quando dice per voi e per gli amici sembrava sembrava legge sta a vedere che è un po' di mina mina oh questo mi è uscito bene sto volo tra l'altro gli alberi sono alti fino a metà però dopo un po' è tutta texture senza collisioni un bel un bel menino Ma bello no, oh Gigi, eppur con le donne t'arrangi lo so, ah, ah, ma come fai, oh Gigi, dimmelo tu, oh Gigi, piccolo e buffo a viaggiare di più, tutte le ragazze sognano di te, dicono che tu sei grande, re, campione, gridano già i peppurra per Gigi la trottola, l'allenatrice, se sa che ti piace ma lei con te no, non ci sta, oh, no, virgola, mettiti in luce su fatti, virgola, 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 però, fermati un po' alle ragazze di un po', no, oh Gigi, oh Gigi, ah, ah, oh Gigi, oh Gigi, tutta la tua classe punta su di te nella squadra, tu sei grande, re, campione la tua città, ti chiama già Gigi la trottola, l'allenatrice, se sa che ti piace ma lei con te, no, non ci sta, oh, no, virgola, mettiti in luce su fatti più audace, vedrai che poi ti noterà Gigi però, fermati un po' alle ragazze di un po', no, la tua città ti chiama già Gigi la trottola, oh, Gigi, Gigi, ah, ah, oh, Gigi, Gigi, ah, ah, oh, Gigi, Gigi, forza, oh, Gigi, Gigi, oh, Gigi, Gigi. Devo dire cosa cazzo sembrava, no, e dovrei girare di qua, però non mi fanno girare, ok, no, no, la distruzione, no, no, se mi fai, oh, no, No, incontri, gran paura, fai il suo volto alla maschera, tigre, tigerman, tigre, tigerman, tigre, tigerman, misteriosa, la sua identità è un segreto che nessuno sa chi, nasconde quella maschera, tigre, tigerman, tigre, tigerman, tigre, tigerman e l'uomo tigre che lotta contro il male combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere, lui sa ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore, il nostro errore, mai si perderà tanti amici e grande la bontà, ma col nemico non ha, pietì, tigerman, tutti sanno che è invincibile, lui sul ring è formidabile nella lotta, è temibile, tigre, tigerman, tigre, tigerman, tigre, tigerman, nella tana delle tigri, lui di nascosto entra piano e poi, di sorpresa assale tutti, tigre, tigerman, tigre, tigerman, tigre, tigerman, tigre, tigerman e l'uomo tigre che lotta contro il male combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere, lui sa ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore, il nostro eroe, mai si perderà tanti amici e grande la bontà, ma col nemico non ha, pietà ma l'uomo tigre lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere, lui sa ha tanti amici e grande la bontà, ma col nemico non ha, pietiger, man, pietiger? non ha pietiger, bella guarda, guarda in campo c'è una nuova giocatrice, Mila il suo nome è Italento A per 3, latra al pubblico, lei sa Shiro se ne sta, il suo cuore ora si batte, batte forte, 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 Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, Mila e Shiro due, Shiro e Mila amore a prima vista è, Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, Shiro e Mila che dolce sentimento è, sempre, sempre così sarà per Mila e Shiro, sempre, sempre così sarà per Mila e Shiro, Shiro un gran campione è già mentre Mila è in riserva ma con grinta lei lo sa campionessa di Verra, certo ancora lei dovrà allenarsi molto ed un giorno, lei sarà forse la più brava, 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 Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, Shiro e Mila amore a prima vista è, Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, Shiro e Mila che dolce sentimento è, Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, Shiro e Mila che dolce sentimento è, Shiro. Allerta, police. Oh no. C'è un gatto cibernetico, vivace e intelligente dall'animo vincente, dolcissimo e simpatico, ha sempre un mucchio di attenzioni per i suoi due padroni, Kurohshan, Kurohshan, C'è lo scienziato dottor Go che vuole dominare con i suoi gatti robot. Ma il nostro eroe gli dice no e allora per salvare il mondo combina un finimodo. La sua dolcezza al volo se ne va e parte subito alla carica. Diventa il gatto più arrabbiato e super corazzato. Flash, boom, sbang, bomb. Ma che roba da gatti e quando si agita, Uroshan. Lo dimostra nei fatti che lui vincerà. Tu sei il più forte, Uroshan. Ma che roba da gatti e quando miago la Uroshan. Questo è un mondo di matti che non cambierà. Stai molto attento, Uroshan. Ie, ie, Uroshan, Uroshan, Ie, 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 Uroshan, Ie, ie, Uroshan, Ie, ie, Uroshan, Uroshan. È un micio assai romantico e palpita d'amore anche se non ha un cuore. Ma è molto più selvatico davanti al tipo da strapazzo che è lo scienziato pazzo. La sua dolcezza al volo se ne va e parte subito alla carica. Diventa il gatto più arrabbiato e super corazzato. Flash, boom, sbang, bomb. Ma che roba da gatti e quando si agita, Uroshan. Lo dimostrano i fatti che lui vincerà. Tu sei il più forte, Uroshan. Ma che roba da gatti e quando miago la Uroshan. Questo è un mondo di matti che non cambierà. Stai molto attento, Uroshan. Oh, 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 ye. Ma che roba da gatti e quando miago la Uroshan. Questo è un mondo di matti che non cambierà. Stai molto attento, Uroshan. Ie, ie, Uroshan, Uroshan. Ie, 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 Uroshan. Ie, ie, Uroshan. Ie, 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 ie. Lo streng di Warframe, Kribbio. Esatto. Kribbio. 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 Non sbinnare. Sbinnami mucho. Kuloshan. Ah, è quasi da sbinnare malissimo. Non l'avamo fatto cantare con Carlo. E l'avevamo usato Giorgio. Oh, è già iniziato. Eh, rimetti quello Italian perché questa qua dava emozione con quello. Ve lo dire, è già iniziato. Sì, comunque, sono le 22.01. Non mi sorprenda. Cassa Cusignata. Bene, io ho sbancato il jackpot qua dalla cassa. Ah, questo? Sbancato. Torno subito, signore. Ok. Allora, c'è, c'è, c'è ancora, c'è ancora una di platino. Sì. C'è Costa Ovest. E Costa Crociera. Eh, ma c'è. Questa strada... No, spero non imposta destinazione. Lo chiamavano il travel rapido. Bezzame, 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 bezzame. Oh, ci siamo. Questa strada... No, che la u' con un accento acuto ultima vez. Bezzame, 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 bezzame e tengo miedo a perderte, perderte. después. Después. Desame mucco. Mucco. Sarà un po' raffreddata, penso. Eh, pochino. Guarda come ci provano. Ci hanno provato. Un polo. Eh sì. Decollo. Il decollo. Eh? Ecco l'elicottero. Ma non ha ancora capi... Ma Cristo. Che non può sfuggire. Non ho capito che non può sfuggire il Cristo. Esatto. Impatto negativo. Miu. Miu. Mi stanno dando continuamente di quelle spinte che mi fanno fare. Sì, partono... portano a 300, tipo. Quando può fare 250, tipo, sta cosa. A tutta la unità. Uh. Uh. Diplo, uh. Diplo, uh. Anche, uh. Sbinnata. Secondo lui dovrei uscire di strada, ma non mi va. Al massimo, giro di qua. Au. Ecco. Ah, ho capito perché vuole farmi collegare a quella stradina lì. Vabbè, che problema c'è. Lo facciamo subito. C'è il ponte da passare per forza. Bella fregatura. Il campo MP del cribbio. Bel volo. No, mai non c'era. Pareva una strada. Non ci credo mai. Ma guardate. Oh dai. Chiuso un'altra volta. Tutto perché il navigatore doveva sballarsi. Tra l'altro perché non ha fatto il volo a me? Cioè, potevo oltrepassare. A quanto pare è nulla. Beh, l'ho preso in pieno un albero e non ha subito rallentamenti di alcun team. Ma tra l'altro c'è sto stream o... Ah, l'avevo mutato io. Scemo. C'è il nostro prossimo accesso. E, ehm, molto sconfitto. E, ehm... Molto 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 attenzione. E, ehm... E, ehm... E, ehm... E, ehm... E, ehm... E, ehm... Ci saranno molte danzioni e celebrazioni. Quando, ehm... E, ehm... C'era il carizzo tutto. Ma per oggi... E, ehm... E, ehm... The... 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 operazione orfix viene fissato almeno se non lo fixa non lo fox è morto ci vuole un po' di tempo perchè 9 secondi per fissare un po' tanti pochi non pochi potremmo dire riechimi buonasera comunque vai col treno wow mi ha intercettato malissimo sto treno in caso sei unito turco? non sei unito, sei un turco ma al massimo l'arabo sotto casa che c'è il kebab visto che ha scritto qualche cosa ha detto che arriva subito pulisco la cucina e ci sono pulisco la cina manco io posso rispondere perchè c'è qualcosa aperto ok e se ne è andato abbassare il volume te lo stremmo nooo no 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 aspetta non ho il quasi non ho il coso lì ok ora ce l'ho non ho il coso il teletraspops il muro c'è il muretto oh ti ho ti blocco io prima non avevo visto il muro e l'ho saltato eh beh è giustamente il muro di merlino il muro di merlino il muro di merlino il muro di merlino il muro di merlino? si se non c'è la citazione è fuori di qui esatto non helio portate a zia enza ma non mi sta ah cosa lì come cazzo si chiama lascoat dov'è andato? no stavo a pensare a quell'altro l'errore mi sono prima l'alto è il muro di merlino esatto che si riega cioè ecco che si riega non mi interviene non mi interviene non mi interviene si dice che c'è problemi di di mente dove di 6 di dislexia se dove dove capito se xd ma cazzo si chiama un altro tizio italiano betel betel mini lui a a ma se gli immigrati grandi sti se non si è nascendo così però era solo la punta dell'aic ma è stato oh no stava facendo la cosa della distanza ah pure non sarebbe cambiato niente si fino a quando non era ok 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 bruner ok bruner bruner bruda mi brudas mi fa schifo come la n word no? no 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 niente brudas brudas mi fa schifo come la n word no? no no perché brudas brumomento brudas è un bel tote ma no quindi non è contro i mini knuckles eh no eh no eh no che buon inizio e fine che buon inizio e fine anche il basso lo fa chiedere di chiudere però 17 a sud qua del west coast da dove c'è los angelo e questo numero pulso qual è il tuo problema? eh troppi problemi bello bello una striscia che non la scuola solo una striscia lì una striscia allora ehm era vicino vabbè vedo vedo 500 metri dovrebbe applicarlo vediamo non è che si tratta di genere l'applicano l'applicano perfetto proprio di là la volta è solo da applicare eh eh ma è che lo scuso se vuoto con è così stronza eh ma anche io direi anch'io vado con appiccato ho fatto la linea la linea vado con ma non lo vado con ma non lo vado con ma non lo vado con ne pure peggio di me incredibilmente e se vede vado con vado a telefono chiuso chiuso nel periodo in cui stavamo cercando di far funzionare gradiator pure a me stava funzionando in qualche modo mentre a manolo no quindi peraltro il catalizzatore principale per far funzionare le cose era rogue però nooo che non ci sono notifiche per cui non ci sono notifiche per far funzionare le cose sono notifiche per far funzionare le cose stop si ma giudicare il fatto che è stabile come le cose instabili non tutto il mondo è fissato tutto il mondo è fissato con stati metri e 90 però anche tu hai sentito polenta? francamente no adesso non ho capito male io vedo che... polenta watsugana esatto per voi i primi amici è pieno facile non lo so sapete tempo puliato i cine? cosa? devo lavare i piatti pure puliscono la cucina e ci sono mi ha detto su una delle chat deve lavare i piatti per cubirla deve proprio smontarla ma che cosa è successo qua? ah no, sai t'ho visto rampicarti sul muro bloccandoti sul posto ma chiamano Morales Pidercar Pidercar Miles Morales nooo ho sbagliato mi sa ah devo devo vabbè prenderò questa strada vediamo dove mi porta da nessuna parte mi sa eh ma è stata no seee tutto sto giro dovrei fare ma stai pazzi sei sottoterra? sottoterra? sottolevata 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 bene come è possibile? mmmm sottolevata ho capito bene? seee mi lascia fare il mio italianesco è l'italese 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 petresco c'è guarda tu che giro maledetto che mi deve far fare dalla mappa l'ho visto un quadrato questo che sta a fare un quadrato un quadrato nooo esatto alla centralizia dovremmo fargli cantare quella al bot che recupero? try eh non posso adesso oh sono screen locked ho capito ho capito faccio io l'ho screenato questo purtroppo quando sono su cellulare e c'è uno stream sono bloccato per minimo minimo 30 minuti e ne sono passati a 7 gente che tenta di fermare sul coso di water ma vengono abbannati poi spero oh intanto ho letto subito link eliminato quindi ahah tomorrow link eliminato will stream wordframe internet ahah ahah nato sbagliato? nato sbagliato 88 ha spammato lui? ha scritto una cosa che si chiama daiiii aspetta ma non so che cazzo vuole dire però che centrale ok 16.000 vinti ine ine qualcuno ha chiesto qualcuno ha chiesto anymorelavosbuffs scusami scusami so scemi mi ha messo mi ha messo in una bronzo ecco non mi piace sei sicuro che non ha scritto nulla turco? ecco non ha scritto nulla non ha scritto nulla allora che altro c'è qua? fuoristrada e due asfalto vabbè quella di mountain states a sto punto sì 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 è un secondo la montagna stati l'indirizzo ce l'ho rintracciarti non è un problema ti telefonerò ti offrirò una serata strana il pretesto lo sai quattro dischi un po' di whisky sarò grande vedrai fammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei lui chi è come mai l'hai portato con te il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai mentre lui, lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Già è difficile farlo con te, Mollalo, lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto, ma è certo di troppo, Mollalo, mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale, quale eventualità trovarvi una collocazione. Ora spiegami, dai l'atteggiamento che dovrò adottare mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia, lui non è il mio tipo, lui chi è? Si potrebbe vedere lui chi è? Si potrebbe inventare lui chi è? Si potrebbe rubare lui chi è? No 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 no, lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Già è difficile farlo con te, Mollalo, il triangolo, non l'avevo considerato, d'accordo. Ci, proverò la geometria, non è un reato garantisci per lui, per questo amore un po' articolato mentre io rischierei ma il triangolo io lo rifarei perché no? Lo rifarei lui chi è? No no no, non ho lui chi è? 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 E lui è no 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 no, lui chi è? 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 Ma loro, dico loro, chi sono? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? No no no, porra. Buonasera. Buonasera. Anche se non sento risposte. Vieneci che è entrato il momento giusto. È molto importante. Eh sì. Non sento ancora nulla io. No, non sento ancora nulla io. No, non sento ancora nulla io. Ah, è che c'è quello spirito. Sta rientrando forse. Hello? Ce la fa? ma la salve e se mi staccato per sbaglio o qualcosa del genere oddio basta che non è mutato a random lui come lo era il botto prima ma non credo aspetta per me se si muove l'icona questo significherebbe che è un problema no ma l'icona non si muove quindi non è quello il problema che respawn fantastico sotto al ponte vedi se ha scritto da qualche parte magari sta tentando di comunicare ha scritto no non vedo text ha scritto no non vedo text usa il bot comunica sento comunque ah vedi infatti non servivo no se quello è vero si può evitare il botto pure per cose più serie per cose utili servizi utili alla società tipo mi vengo sempre a dire una cosa esatto qual è ma 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 beh beh quel fuoco non ti è piaciuto non era abbastanza quanta gente ci sta qua andate via bello a farmare punti così però ma al massimo mese il testing del microfono fa qualcosa su sempre su discord discord costo costo il discord costo il discord costo il discord no costo il discord cos'è sto telefono 16000 b20 nice bb c'è 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 il drone' si è forte dottato io non ricordo come si fa a fare la roba che serve a fare per poter fare quello che possiamo fare comprensibile detto in maniera prefigli ma the more you know kids domestic domestic drone don't mess with them they can literally Litt nefermec e ma io sto cercando minecraft bedrock che in teoria ce lo dovrei già avere però sta preso dallo store di windows oh my god e Ah, ancora devi... Vabbè, non è che ci voglia tanto installare Minecraft Bedrock, il male di trovarlo e basta. Ah, non lo so io. Io non mi intendo di Windows Store, quindi... No, neanch'io, però... Non so, il gioco l'avevo comprato su Mojang, originariamente, però... Le finestre. Anche per Windows 10. Quindi tu dici che quando prendi uno, prendi automaticamente pure l'altro? Così mi è stato detto. Ah, aspetta una santa. Sì, ancora quello che ho fatto. Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona, itinerario il mio indirizzo. È la follia, c'è un infelice. Ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi. Io sono la notte e il mistero. L'ambiguità, io creo gli incontri. Io sono la sorte, quell'attimo di vanità incredibile. Se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali. Vedrai, mi vendo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno. Ti do due ali. Sai, mi vendo un'altra identità. Ti do quello. Mamma mia. Oh, ma hai salvato la vita, attuali. Bene. È stato un bel save. Non ho ancora capito. Oh, questo è il tunnel della parte glicciata. L'ho allungere. Ah, sì, è quello. Ui, ui, ui. La polizia. Oh, sta a pioggere che non aiuta per niente. Si sta scappando, centrale. Dmitru Ptrescu. Dmitru Ptrescu. Guarda, non lo so stanno i numeri. Ok. Queste sono sembrate le letters. The letters. Ah, ok, allora devo girare. Cosa? Grazie. Molto gentile. Il Drifton. Prego, prego. Visual è ancora buona. Credo. Un drone domestico. Un drone domestico. Che scrive la gente. Devo... Devo girare comunque di là perché mi fa fare un giro di due chilometri. Solo che mi sa che non dovevo fare questa cosa, beh? Già. Non mi è convenuto. Ecco. La prossima volta mi ha convenuto di fare il giro. Possiamo convenire che sono andate male le cose. Che c'è stata la F. Un drone domestico. Il drone. Sì sì sì. Dopo... ... Mi riprendo con l'altra. Oh, c'era un tagliettino. Un tagliettino. In effetti non l'ho sentito da un po', già. Non è un tagliettino. Prendi che in genere i Discord non... Discord non... C'era un tagliettino. Dacci un segno della tua presenza. C'era un tagliettino. C'era un tagliettino. C'era un tagliettino. E' un tagliettino. E' un tagliettino, e' un tagliettino. Sì, ho acceso completo al mio telefono. L'accesso è accesso. Si ma sti cosi... sti bidoni gialli hanno una hitbox esageratissima Il colpitone mi ha fatto volare un'altra corsia Oh si è quello tipo di hitbox e cose magnetiche Stamattina mi son messo a fatti c2 no? Vabbè mi hai messo a fatti c2 Comunque devo fare la prova del Monster Truck Faccio il primo giro Flawless Al secondo giro non riesco più a far girare il Monster Truck Sai perché? Cosa? Cioè è stato strano Scusa l'interruzione E' stato strano Ma... ok E' partito quel furgone con more Si a parte quello Ma l'hai fatti i tagliati che ti dicevo io o l'hai... Non so nemmeno di quale tagli parli Si So solo che ti ho stracciato dei brutti Quindi le mani Un secondo non è stracciato Sono 2000 punti in più quindi... Yabai Understandable boomer Ehm... Nel primo tentativo l'ho fallito Sai per quale ragione? Ehm... 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 Tipo... 100 km orari di riduzione di velocità Ehm... Bel memino Ehm... Metterei... Cassa gold asfalto 5 L'ultima che ci resta E' provare Le gold Le gold Le gold Le gold Mio figlio poteva morire Poteva ammorare Come diceva nel meme Poteva ammorare Il figlio poteva ammorare Zoom Ok ci sono Oh ecco Ehm... Senti barbecuezzo Ho indagato con l'aiuto del mio amico Abbiamo scoperto che chi ha minecraft java edition Ha anche la bedrock edition Ha ammesso che la riscatti entro il 20 aprile 2020 Quindi io non ce l'ho Oh Quindi niente Dovrei ricomprarlo di nuovo per 30 euro E no grazie Perché a minecraft gli ho già dato almeno 50 euro Non ho intenzione di spenderci altro Quindi no Gli abbai Non lo sapevo neanche io Perché c'era questo mio amico appunto Che aveva entrambe le versioni Ma perché lui l'ha riscattato prima il gioco Come 50 euro? No allora Perché l'ho comprato sia per playstation che per pc Minecraft Quindi ho speso 20 euro per pc Tipo una ventina di euro per playstation Quindi 40 euro glielo ho già dato alla mojang Eviterei di dargliene altri 30 Perché la bedrock edition costa 30 euro Ehm... La versione PS3? Ok No la versione PS4 l'ho comprato Aspetta C'è la versione PS4 Ah però non c'è PS4 a portare ma... Ok Esatto Ehm... Mi so... Che ha preso Perché è il solito Minecraft Cioè C'è pure quello classico In java Quello Che puoi moddarti Di... Si quello bello via Quello ufficiale nato per pc Quello originale Quello è Esatto Mentre l'altro è una versione creata in seguito Per cercare di unire tutte le console Si lo so Il linguaggio di programmazione usato è proprio diverso infatti Poi tra l'altro la versione PS4 l'hanno rovinata del brutto queste cazzo di bedro Ma potevano... Ho capito... Potevano regalarlo cacchio però c'è che cacchio c'è uno deve comprare il gioco due volte Eh sennò il villone come se lo prendeva No... Non c'è problema Come se lo prendeva il villone... Coso là Come si chiama Oggi anche di sto cazzo No... Il... Colui che la crea Il marcus Non c'era il mio più proprietario della mano c'è anche credo Si però inizialmente c'è... Già... L'ho venduto a Microsoft Quindi... Io me ne prenderei di più che un Microsoft Che quindi... Microsoft fa tutta buona e care E poi fa le boiate per cui Io c'ho la mezza impressione che ci siano loro di mezzo Probabile Probabile Eh... In teoria ci sarebbe il piano B Vabbè almeno mi hai spionato a finire di studiare dai Oh wow Ci sarebbe il piano B o come lo chiamo io il piano NMS Aspettavate No MMS Sky C'è stato un carambolino qua Se no c'è il piano V Si no V? Il piano Yabai No please Guarda lì com'è Oh mia Oh mia Yes Oh no no C'è una cosa che dovrei aggiornare che butterei su PC a giocare a Warframe lì Solo che... Ah no Dovrebbero fare più giochi cross platform manager loro Eh eh Rocket League Rocket League Non ce l'ho aggiornata altrimenti l'avrei suggerito C'è qualcosa del... C'è qualcosa del... Nel tuo PC o... No su PS4 pensate Eh? Eh? Hanno fatto... Hanno fatto l'ennesimo smolening che... Ah ok Certo Hello? No Sì Aia bai Ho... Ho sentito tipo una morte improvvisa Non lo so io Eeeh... Qual'è in altro gioco cross platform? Niente Fortnite Chi è che lo gioca? C'è in cinempa Io Cross platform è quello è quello Basta bomba Si è cross platform Infatti io gioco da PC lui da PS4 Ah Non cosa sapeva Eh torno subito Vada Non gingiski Non gingiski Ah di No di vadi Non lo so Che devo fare? Devo accendere il PC? Inciniamo una seratina scribble a random? Come volete Poi io potrei pure starci Siamo... Pruscotto Detto crotto In quattro è fattibile Magari... Sì ieri abbiamo giocato in tre Alla fine per un po' Perché Gli altri se ne erano andati A tradimento Oh Ma si in tre già è fattibile Poi più si è meglio è Ovviamente Ovviamente Magari Magari Selezionisci pure il rogue Magari può Permettere su di Vabbè Io ci sono volendo Sto esplodendo Sto esplodendo Ah già abbiamo... Ho quasi convinto i miei amici A provare a fare il pollo con la birra nel culo Ci stavamo pensando oggi Di riprovarci effettivamente Però bisogna organizzarci bene Il pollo con la birra Bisogna organizzarci bene Ma dimmi la verità Ce lo hai aggiunto il pollo con la birra Mi pare di sì mi pare aspetta Ok Oberon and dog Oh no Oh no Mi pare ci fosse Disegni salami Ma come inizia fuori di testa Io non mi posso immaginare qualcosa che esce a qualcuno e dici No come faccio? Allora io ho bisogno di sapere se devo restare qui su PS4 o se devo passare PC Eh serve CR Yabai per rispondere Esa se Understandable Quindi per mai che hanno fatto una cosa simile alle versioni next gen Perché quando la PS4 era una cosa nuova Poi se ne sono usciti pure a fare una cosa lì del cross by Ovvero se tu hai comprato la versione PS3 Per un po' di tempo te potevi comprare la versione PS4 a prezzo ridotto Adesso credo non sia più possibile Anche perché che cazzo compra più alla versione PS3 Quindi anziché fartela pagare 20 euro Te la facevano pagare 8 Uno sconto Sì appunto Ma se era un prezzo onesto ci poteva anche stare Cioè un DLC per giocare multi-platform ci sta a pagarlo un pochino Così veramente devi far ricomprare il gioco da capo Sì 30 euro è indefinito E' più di minecraft Minecraft costa 23 euro Se li fanno a quel punto uno attende gli sconti Aspetta che invece di fare 30 euro fa 5 euro Se proprio se ce li vuole spendere in primo luogo Perché mi sembra pure un po' 5 euro ci sarei anche stato Ma sono pochi Rispetto a 30 30 è il sesto 30 è proprio no vaffanculo Ma... Che poi perché 30? Non dove ve costa 20? No, ha alzato il prezzo di minecraft in generale Va a salire Non so, non ci gioca più nessuno I server sono vuoti Però il prezzo sale La lira si impenna Un bel nene La lira si impenna sempre Dimmi Come ce lo vedi in una partita Scribble a random? Ora? Eh Dico che ci potrebbe stare Ci potrebbe stare secondo me, sì Tanto quale... In fatto caso Le casse interessanti qua sono finite A meno che non abbiamo altri piani Allora... A me dar volo Warframe Così magari posso pure togliere i sprendi Io il piano non ce l'ho quindi... L'arpa allora Ultima offerta Il piano cartesiano Al massimo Ho una chitarra Ecco Se voglio quelli Eh! Eh! Non è male Non è una cattiva proposta Una volta adesso ho fatto quello Hai perso la chitarrocità Esatto Devi... Devi prendere uno Shoudin su Warframe e suonare quello Suppongo di sì Sì No no, non devi succedere Devi farlo in base Presto le gare di uno Shoudin Così a caso Certo, sono io a uscire dal patio Non tu come l'hai preso per la gem Io no Io ne ho 260 mila volati E sono tutti contatti No, facciamo una cosa corretta Vedo che cosa ha da darti così facciamo una cosa No, vabbè Un bel trading vecchio stile Metti che poi lo scontano, non è una certa Oddi aspe, quando mi capita un 75% si potrebbe fare in realtà Però parliamo di una chance remotissima Perché non ne vedo da una vita 75% 75% Si applicano, si applicano in regali, non mi ricordo Ma tutto mi farà E allora Eh, tutto no La roba Tenogen e i Ma mica è Tenogen quello, scusa Quello è Memager Sto spiegando la roba che non si applica a tutto Come ti permetti di spiegare cosa? No, sei tu che devi Devi mettere di permetterti Allora, fammi chiudere sto strema che cosa l'ho preso Il glipo l'ho preso Ehm Mi allontano un attimo da qui Torno su Guna Attraverso il QQ Che bye, bye bye Rip Vabbè, allora qua io faccio alt più F4 Per la F E faccio bye bye Allora Una Una